ciao a tutti bentornati allora oggi andiamo a video commentare un blog dal titolo un po preoccupante non sto bene blog maggio 2022 dunque è un video che è stato caricato nel canale ufficiale di chiara d'alessandro e dura circa 13 minuti in tutto all'inizio video c'è l'inquadratura di una padella in cui si stanno sciogliendo un paio di pezzetti di burro e a cui viene aggiunto a grande sorpresa del cavolfiore quindi vi lascio immaginare il profumino per tutta casa ma la ricetta non è conclusa perché andiamo ad aggiungere anche del dado in polvere e nel frattempo che questo benedetto cavolfiore sbollenta noi cosa facciamo cambiamo postazione e qualcuno potrebbe dire adesso dove state siamo al lavello della cucina perché stiamo lavando delle succose fragole che poi andiamo a riporre in un piatto e poi servendoci della confezione che le conteneva andiamo a tagliarle a pezzetti nel tagliarle praticamente ne sta buttando via un quarto ma dettagli poi aggiungiamo un bel po di zucchero una bella ravanata profonda e si ritorna al cavolfiore di poco fa e giustamente uno potrebbe chiedersi e che sorprese potrebbe mai nascondere un cavolfiore beh abbiamo aggiunto della pasta e 8 kg di formaggio grattugiato e dalla padella al piatto è un attimo sì ok tutto molto bello molto interessante ma è un vlog di chiara o è un episodio di masterchef vi dirò sono un po' confusa poi abbiamo l'inquadratura di una tazza di vetro firmata chiara ferragni con dentro le fragole quelle di prima e si ricambia location perché ora siamo seduti in auto proprio davanti all'iper drive e che stiamo a far qua dobbiamo ritirare la spesa effettuata online per l'occasione abbiamo indossato un felpone tattico dei kremlins e mi sa che siamo anche arrivati al vivo del discorso anche perché prima c'erano solo delle immagini manco parlava lei dice che si aveva promesso di riprendere la normale programmazione dei contenuti ma purtroppo sono in sorte dei problemi di salute barra umore tra cui un malessere generale dei forti mal di testa e un senso di nausea che sta accompagnando le sue giornate ora nel caso che tutto questo persista si regherà certamente dal medico per risolvere questi fastidi ha riscontrato inoltre una sensazione di sonnolenza che la porta a dormire molto più del solito per non parlare dei morsi della fame che la colgono molto più spesso del solito perché perché ha diminuito i pasti ha anche sostituito le brioche dolci coi cereali e credo siano quelli ricoperti al cioccolato e se non sta facendo molti video è perché non si sente bene e dato che siamo in vena di confidenze ci racconta che la storia di star lì a mandare strike e segnalazioni la sta stressando pure perché si è resa conto che appena ne butta giù uno di canali se ne creano subito altri tre e quindi ha deciso di gettare la spugna in merito a questa faccenda anzi fa un accurato appello a quelli che sono i suoi utenti chiedendo di non riportarle più quello che succede in questi canalacci riservandosi comunque la possibilità di inviare gli strike ma di non pubblicizzare più questo tipo di cose nelle sue live perché così facendo oltre che dare importanza a queste persone come se fosse un incentivo a loro a farli continuare spiega tutto questo ed il suo tono di voce è ammantato dall'amarezza dice sono fastidiosi sì sono come le zecche sì ma da oggi in poi agirò sotto banco quando ne avrà voglia però da oggi in poi zero importanza a questi soggetti nel frattempo davide ha ritirato la spesa apre il porta bagagli e ripone il tutto e quindi non appena davide finisce di sistemare nel retro dell'auto tutti i sacchetti si ritorna a casa poi per rendere l'idea di quanto lei sia giù di morale ci dice che anche se adesso avesse tra le sue mani un bonus da 1000 euro da spendere da primark non ci andrebbe ebbè pure perché oramai a casa a tutto l'assortimento di primark primavera estate autunno inverno ma comunque risulta una situazione abbastanza allarmante ma torniamo a quello che è questo malessere che si è manifestato per la prima volta una sera mentre era al telefono con fate e marco era posseduta da questo mal di testa così forte che ha trovato sollievo solo standosene lì tranquilla al buio mentre per quanto riguarda la sensazione di nausea nulla di fatto perché a quanto pare persiste nel frattempo davide è attento a controllare prodotto per prodotto che le confezioni siano tutte integre e non ci siano irregolarità di sorta che dire c'è chi si diletta in perizie foniche forensi e chi in controlli per la sicurezza dell'umanità ecco chiara si ripropone di fare solo live leggere divertenti quelle con i giochi e un po di pettegolizzo e non dare più spazio a questi canalacci che praticamente le creano solamente stress tra l'altro pure inutile e quindi per gli estimatori delle live buasta saranno tempi duri insomma però io direi non disperatevi più di tanto perché questa è una promessa fatta molte ma molte volte e mai mantenuta anche perché senza paura di smentita credo che le live buasta siano praticamente uno dei cavalli di battaglia del canale di chiara d'alessandro per intanto il blog è finito e davide sta ancora lì dietro a controllare la spesa allora in questo blog chiara appare un po stralunata un po seccata senza voglia insomma un video di 13 minuti in cui la prima parte è praticamente uno scorrere di immagini di lei che taglia le fragole che lei che sta a rigirare sto cavolfiore ma adesso andiamo velocemente a vedere cosa è successo in seguito al caricamento di questo video e a tutte le congetture che ci sono state in merito alla dichiarata nausea di chiara la prima ipotesi che hanno partorito gli utenti che la seguono e anche gli haters è stato che chiara potrebbe essere incinta voce che sta rimbalzando di canale in canale ora al di là del fatto che possa esserlo o meno a me sembra solo molto stanca demotivata senza stimoli del tipo lasciamoci vivere non per necessità ma per inerzia e ora in conclusione di questo blog volevo affrontare pure il discorso igiene personale cura di sé allora a parte che l'igiene personale dovrebbe far parte della comune routine quotidiana di un individuo che si ritiene civile perché in questo modo ha sia rispetto per se stesso che per chi gli sta vicino tanto più se ci si erge a sentenziatore dell'igiene degli altri e se no poi si incorre nel buon vecchio ma parli proprio tu a cui poi dietro l'evidenza dei fatti sarebbe solo da chinare il capo e tacere dopo tutta la regola e non giudicare se non vuoi essere giudicato beh ora qui qualcuno potrebbe anche dire ma anche tu parli di quello che fa chiara ad alessandro esattamente io parlo di quello che fa non prendo mai in esame le sue cosce il suo fisico i suoi capelli i suoi denti è che siamo alla fiera dei cavalli trovo assurdo e alquanto squallido chi focalizza l'attenzione su questi aspetti perché più che denigrare chiara non fa altro che definire la propria pochezza d'animo ora io posso anche capire no che ci sia una forte componente di cattiveria e una di guadagno pure perché è evidente che quando questi soggetti propongono contenuti propri lì ci fanno praticamente due visual ma questo non deve essere un deterrente per ossessionarsi letteralmente a delle persone che neanche conosci questo non è sano persone che stanno lì 24h su youtube a sindagare ogni minimo respiro di chiara e aprono decine di live al giorno e video perché perché nel frattempo hanno colto altri dettagli da comunque condividere con quella che è la loro utenza vanno ad integrare praticamente quelle che sono le loro cattiverie quotidiane questo è veramente da percorso psichiatrico senza se e senza ma ma questo è un discorso estremamente lungo e ramificato che adesso non mi va di affrontare in questo blog quindi questo per oggi è tutto a me non resta che augurarvi buona continuazione di giornata e darvi appuntamento a quello che sarà il prossimo contenuto un bacio a tutti da così grazie a tutti